Il 9 giugno Trento ospiterà il Dolomiti Pride, per la prima volta l'orgoglio LGBT sfilerà per le vie del capoluogo, molte le iniziative collaterali e di riflessione. Il 9 giugno Trento ospiterà il Dolomiti Pride, per la prima volta l'orgoglio LGBT sfilerà per le vie del capoluogo, molte saranno le iniziative collaterali e le iniziative anche di riflessione su molti temi. La data è quella del 9 giugno, come già ampiamente annunciato, si chiamerà Dolomiti Pride. Per la prima volta l'orgoglio LGBT sfilerà per le vie di Trento, attese almeno 10.000 persone. Saranno 30 le manifestazioni in tutta Italia e quest'anno anche il capoluogo ne ospiterà una. Il Dolomiti Pride, promosso da Arcigay del Trentino con Arcigay Bolzano e molte altre associazioni, ha l'obiettivo di coinvolgere l'intera area dell'arco dolomitico e dell'Eureggio per portare l'orgoglio oltre i confini. Credo che sia una manifestazione che vuole avere al centro l'inclusione di tutti e quindi di tutta la cittadinanza, che sia un Pride partecipatissimo, organizzato da tante associazioni e tante persone qua nel nostro territorio. Sarà il primo Pride alpino, quindi credo che questa sia la grande differenza rispetto a tutti gli altri Pride. Il Pride, hanno detto gli organizzatori, presentando l'evento è un momento straordinario di visibilità collettiva in cui tutti possono sentirsi liberi di esprimersi senza essere giustificati. Non ne mancheranno ovviamente i momenti di approfondimento sui temi di più stretta attualità che riguardano il mondo LGBT. Avremo diverse conferenze, anche una particolare sulla religione, visto che siamo nella città del concilio, religione omosessualità, e poi avremo diverse mostre, film, teatro, quindi sarà una serie di eventi che da qua al 9 giugno ci condurrà verso il Pride. La città come vi aspettate vi accolga? Ma io credo che la città di Trento in realtà, dopo tanti anni di lavoro sul territorio, abbia sviluppato una certa capacità inclusiva. Poi ci sarà sempre, come in tutti i Pride, chi dovrà fare polemica, ma noi crediamo che potrà essere una bella sorpresa da questa città. La filosofia dell'evento e le tante manifestazioni si possono approfondire sul sito www.dolomitipride.it